prepariamo la cosiddetta colletta una siringa di alcol denaturato e una siringa di acqua poi prendiamo della crema, crema neutra, applichiamo sulle mani o sul viso passiamo la pennellessa di vaio ingrassandola prendo il libretto, vado a cercare la prima foglia d'oro disponibile e con un gesto secco la metto sul cuscino di Dino con il coltello per doratori spingo decisamente verso il basso muovendo verso l'alto e verso il basso due o tre volte e poi esco sempre spingendo ho tenuto così un taglio perfetto della foglia con la pennellessa di vaio la recupero e nello stesso tempo bagno la superficie interessata con la colletta precedentemente preparata e con un gesto metto la foglia d'oro l'operazione continua per foglie successive l'importante è che ogni foglia venga messa sopra per una piccola parte se non altro nella foglia precedente fino a fare sparire i raccordi Mingangelo 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 Grazie a tutti.